Un potenziamento della sicurezza nelle 24 ore con personale di rinforzo dei reparti speciali già a partire dalla Pentecoste. A Lignano Sabbiadoro si prepara l'estate 2024 anche sul fronte delle attività di prevenzione e controllo del territorio per una spiaggia pronta ad accogliere come ogni anno milioni di turisti. L'argomento è stato al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato dal prefetto Domenico Lione in municipio. Presente oltre al sindaco della località Laura Giorgi anche il questore Alfredo D'Agostino e tutti i principali esponenti delle forze dell'Ordine. Il primo focus è il weekend che va dal 16 al 20 maggio quando Lignano Sabbiadoro diventerà meta dei turisti da Austria e Germania per le tradizionali festività. Su questo ci sarà un apposito tavolo tecnico la prossima settimana. Dal primo giugno l'arma dei carabinieri potenzierà il presidio lignanese con un numero di unità tali da consentire il controllo del territorio nell'arco dell'intera giornata. Durante tutta la stagione saranno organizzati i servizi di controllo straordinario con l'ausilio del reparto di prevenzione crimine coordinati in sede tecnica per contrastare il fenomeno dello spazio di sostanze stupefacenti. Tra gli obiettivi primari anche il contrasto al degrado con la richiesta da parte del prefetto di avviare progetti che consentano la presenza di guardie giurate adeguatamente formate sui mezzi di trasporto pubblico locale specie nei fine settimana.